E ora attraverso questa porta di glass, con la finitura di profilo nero, vi accompagno all'interno di un altro ambiente garofano. La camera da letto, completamente realizzata grazie anche qui alle soluzioni Total Look di Garofoli. Come vedete dai pavimenti, alle pareti, alle porte, all'armadio e anche addirittura al letto, è stato tutto completamente realizzato grazie ai prodotti Garofoli. Questi sono alcuni esempi che vi abbiamo voluto mostrare per farvi capire come grazie alle soluzioni Garofoli possiamo essere in grado di realizzare un'abitazione esattamente come voi volete. Coordinata e soprattutto molto stilosa e in linea con i vostri gusti e con il vostro modo di vivere la casa. Grazie